ed ecco ragazzi benvenuti sul mio canale max astrale iscrivetevi e lasciate like vi raccomando adesso faremo la missione posiziona il cristallo del spirito sul monte più alto ecco adesso mettiamo ping sul monte più alto che sarebbe qui in questo punto dove ho messo adesso e andiamo su con la missione iscrivetevi lasciate like ragazzi mi raccomando ciao al prossimo video iscrivetevi al canale ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.